Il Politecnico di Bari ospita dei laboratori sensoriali capaci di monitorare la qualità dell'aria e di rilevare agenti inquinanti. Si chiamano Polisense e sono stati finanziati con 370 mila euro il servizio. Sensori di ultima generazione capaci di monitorare la qualità dell'aria e rilevare la presenza di agenti inquinanti. È uno degli obiettivi dello studio del Politecnico di Bari che ospita nuovi laboratori dedicati alla sensoristica. Si chiamano Polisense e sono dedicate alla ricerca e sperimentazione della spettroscopia per lo studio delle sorgenti laser, del monitoraggio ambientale e rilevazione di gas tossici e idrocarburi per applicazioni petrolchimiche oltre che allo studio di biomarcatori per analisi del respiro. I laboratori sono stati realizzati con un investimento pari a 370 mila euro e sono composti da un'area riservata alle attività di ricerca e una dedicata alle attività didattiche. in cui lavora un team multidisciplinare. Tra i progetti in cantiere ci sono i sensori per il monitoraggio ambientale basati sul laser di ultima generazione e su una tecnologia in grado di analizzare la qualità dell'aria in tempo reale, in aree urbane e industriali. Nello studio è prevista la collaborazione dell'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione ambiente, perché riguarda l'installazione a Bari di 10 centraline di monitoraggio ambientali capace di fornire in tempo reale informazioni sulle concentrazioni di inquinanti più pericolosi per la salute umana.